La Sceglia La Sceglia La Sceglia La Sceglia Caldo no! Oh! 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 Ne avevo 10 e poi ne avevo lasciate tutte Ho 29 anni e abito a te in cano Sto cercando una bella ragazza voi avete fidanzati Non è timido per niente Lui probabilmente vuole quello che per te è marina ovvero una persona a cui voler bene con cui è bello fare l'amore Benissimo allora, a posto Ehi! 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 Grazie a tutti. Vi è piaciuto questo video? A me sì. Allora, ora parliamo di Kurt Russell, che potrebbe essere in procinto di entrare a far parte del cast di Fast and Furious 7, mentre sembra che abbia rifiutato definitivamente il suo coinvolgimento nei Mercenari 3. Quanto al suo personaggio in Fast and Furious 7, era stato ipotizzato che Russell sarebbe stato una sorta di figura paterna per il defunto Paul Walker, ma secondo recenti indiscrezioni sarà molto più legato invece al protagonista Vin Diesel. Diretto da James Wan, Fast and Furious 7, vi ricordo che uscirà nel 2015. Bene, mi raccomando, mi raccomando, mettete un mi piace sulla nostra pagina Facebook Anteprima Cinema e noi ci rivediamo nel prossimo video.